Professor Puoti, a che punto è l'autonomia degli enti locali? Purtroppo ad un punto, diciamo, forse morto. Nel senso, come si è visto nel dibattito di oggi, che da un lato noi abbiamo delle norme che sanciscono una piena autonomia degli enti locali, quindi delle regioni, dei comuni, delle città metropolitane, e dall'altro invece abbiamo un sistema normativo che non garantisce affatto la possibilità di avere delle entrate tributarie sufficienti e soprattutto sufficienti per la realizzazione degli obiettivi di spesa che ci sono. Quindi se non ci sarà una modifica sostanziale di questo sistema, io credo che non riusciremo ad andare avanti.